Nicola Zanon, direttore App Industria Venezia. Voi come App Industria fate dei corsi per rendere professionale i giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro a 360 gradi da quello che ho capito. Ecco, cosa state realmente facendo in questo momento? Confermo che questo trend che ci portiamo ormai avanti dagli ultimi anni di una mancanza di figure professionali specializzate, anche in questo periodo di crisi, perché abbiamo aziende del comparto manifatturiero, ad esempio su una figura del saldatore, piuttosto dei trasporti, quello dell'autista, che mancano sul mercato. E quindi come associazione, nonostante alcune limitazioni, ovviamente imposte da normative nazionali e locali, di sospendere le attività formative in presenza, noi abbiamo convertito questi percorsi formativi in modalità di formazione a distanza, di didattica a distanza, affinché non ci si fermi, affinché queste aziende possano avere, ricevere quei lavoratori formati nelle mansioni che loro ricercano e quindi dar la possibilità di agganciare, nel momento in cui questa situazione migliorerà, di poter agganciare la ripresa in maniera immediata, perché sarà fondamentale che non appena queste restrizioni verranno tolte, si potrà tornare alla piena operatività, si sia tutti pronti sui blocchi di partenza per una ricorsa fortissima, per una ripresa fortissima, per recuperare il terreno perso. L'associazione quindi è sul pezzo, continua la sua operatività e se posso dire anche più forte di prima, usando strumenti diversi, idonei rispetto al contesto e che anche stiamo immaginando, stiamo prospettando. Faccio un esempio su cui stiamo investendo, che è quello di pensare anche a delle forme di fiere virtuali, sappiamo benissimo che sono state tutte sospese quelle del 2020 e lo saranno anche quelle del 2021, e quindi pensiamo ad una formula di fiere virtuali perché rappresenta ancora un canale commerciale molto importante per le PMI, che hanno in queste vetrine l'occasione di farsi conoscere, di incontrare i propri clienti presentando i nuovi prodotti, i nuovi cataloghi e non possiamo privarle di linee, di canali commerciali vitali. Ecco che l'associazione ha il compito di ripensare, reinventare queste soluzioni e dare quindi il loro sostegno appunto per una proficua e rapida ripresa.